o chi sono più chiaro di così si può essere solo trasparenti entro con lei che da dietro ancora mi tira la martingala mentre un gruppetto di persone stava uscendo e nel vedermi indietreggia per farmi passare mi mando all'unisono un inchino e torna a disperdersi nella sala perché c'era ormai aria di sbaraccamento e degli stuzzichini sulle console restavano gli spiedini di legno e i tovaglioli di carta buonasera bisbiglio timidamente a voce non solo bassa ma tremula come temendo di essere inopportuno e inarcando lievemente le scapole io sarei anche meno pretesco ma non voglio deludere le aspettative del mio pubblico loro ci tengono tanto come tutti i servi stanno molto più sull'attenti se io sul palcoscenico mi presento un po' ingobbito il divo giulio docet anche se non è stato facile imitare alla perfezione uno che la gobba ce l'ha dal signore per primigenia unzione stavano già tutti girati verso di me a parte uno che insisteva a mostrarmi le spalle e che ormai nel pentecostale silenzio ingigantito da un pissi pissi di sagrestia non si dava pena di appurare cosa era improvvisamente accaduto dietro di sé e che come se niente fosse e come se io fossi parte di quel niente stava finendo una sua considerazione e che con voce ma è proprio lui l'innominabile porca di una betlemme porca che ti venga una lourdes di cazzi di ceri in culo e che con voce a dire il vero non petulante come quella che sfoggia in televisione sentenziava tutto giocoso in punta di piedi neanche a che appasse farfalle sui fili della luce e mi si passi l'autocitazione ma è ora di finirla di dire che i preti sono uomini come gli altri solo perché vanno a puttane o a trans o a incularsi i bambini e mai perché fanno affari sporchi come tutti siamo in italia più che mai il marchio fascista è tristemente indelebile a destra come a sinistra la democrazia qui è democristian mafiosa o non lo è l'italia è a vocazione ottomana finalmente è diventata la bulgaria degli anni 80 e lo resterà per un bel po ormai ce l'ha fatta qui sono gli uomini a essere preti come tutti gli altri il più laico è un cellino e l'informazione da repubblica ad avvenire ma quello lì quello scrittore da due soldi un ex cameriere col complesso di superiorità tipico della categoria dei famigli metropolitani e uno vuole dirlo al quale non sfugge niente come se avvesse una terza pupilla dove noi avevamo la chierica no non stava affatto finendo una sua trita e ritrita considerazione iniziata chissà quanto prima l'aveva coniata e bulinata lì per lì doveva avermi colto con la coda dell'occhio che era ancora fuori sul marciapiede e quello era il suo discorsetto di benvenuto al cotanto paraculo che secondo lui sono io ho pensato non una volta sola che avremmo dovuto farlo fuori e lo avremmo anche già fatto se non fosse che avremmo alimentato un mito e ci saremmo dato la zappa sui piedi così invece il suo quid lo consuma giorno per giorno facendo ospitate televisive presso le nostre stesse reti con sorelle cresimate e marianizzate e defilippate dalla nostra longa manos e ci fa un baffo lui a noi con i suoi bon mot volti a ridicolizzarci ci vendica con le sue stesse arti arguzzi e spuntate e che lui ne sia consapevole o no è già stato brevettato e omologato come qualsiasi letterina e meteorina e velina e bilionarina con tette e chiappe al vento è funzionale anche lui come tutti una vespa senza pungiglione dal suo porta a porta di figa in metastasi con le stigmate da minchietta di boy scout sei un pretino di quarta segata come tutti gli altri beh che faccio posso rilassare le scapole dovrò pur avvicinarmi alla parete adesso dare un'occhiata alle installazioni bianco e nero di questo giacomelli qua mica posso fare dietro front non prima che quella schiena si sia girata resta imperturbabilmente girata e lui sembra che se la goda continua a sproloquiare tutto giulivo ignorando gli occhi dei suoi interlocutori che certo non sono puntati verso la sua faccia e non lo nascondo ho un istante di panico non so se poi l'anno dopo sono stato ad aspettarlo o no e automobili che facevano lo stesso rumore che c'era prima di c'erano prima di una dell'una ormai fuori non correvo più a vedere avevo solo il compito di portare una manciata di sale nel gabbiotto una volta mi sono avvicinato alla capra e stavo per metterle una mano sopra forse l'avrei accarezzata ma si mise a muso basso impennandosi sugli zoccoli anteriori io scappai una carezza va negoziata uno mica sempre vuole riceverla e non dal primo che ha voglia di fargliela no invece facevamo meglio eliminarlo in tempo quell'innominabile dell'ostia tanto i giornali sono nostri la stampa la stampiamo noi un coccodrillo di tre righe concordato col brambi del cartello è morta lì questo qua mica si converte questo qua fa sul serio un gennaio di un paio d'anni fa si è fatto persino un punto d'onore di non andare al funerale di sua madre perché sarebbe dovuto stare dietro a un prete e quella maledetta di internet gli ha pubblicato questa enormità di suo pugno altrove non sarebbe potuto succedere non su una sola delle gazzette nostrane ma chi avrebbe mai potuto prevedere che uno che lui che uno come lui così ambizioso paranoico così vulnerabile di nervi sembrava non avrebbe finito per chiederci qualcosa chi avrebbe potuto divinare che ci sarebbe sfuggito quel letteratino tutto apologia del buco del culo che si crede behemot guarda che è appena fermato il contrario anzi non hai appena detto che i suoi libri che ti bevi come acqua del giordano o ti piace proprio bene il deflusso del bidet mi fu mi fa dentro una cidola vocina di sfotto ci avviciniamo alla prima foto solo con lo sguardo la mia damazza rotariana si dà un grande affare a drappeggiare la pacemina su una spalla la fa scendere la fa salire accoglie a distanza i tributi del signore come se le assicurasse che anche lei in fondo fa parte dello stesso modesto genere siamo ancora parecchio lontane in ogni senso non solo dalle pareti c'è ancora troppa immobilizzazione qualcuno dal fondo della sala però sta venendo verso di noi con un volume retto sulle palme delle mani nemmeno fosse il dono di un remaggio al divin bambinello o la daga con cui farsi meritatamente decapitare mio padre fu così che mi offrì al prete oltre la rete della colonia come abbramo frisa acqua a dio ma per me dio non intervenne a fermargli la mano e tuttora ho l'impressione che non solo io non solo lei questa sanguisuga qui attaccata a me come una strainciucciata ventosa di tiramerda di quel cesso che butti fuori quando mi dali ti addosso ma che tutti tutti si faccia parte dello stesso museo delle cere delle cere sì di quella cosa morta lì lui escluso il girato maledetto non è certo venuto al mondo col capo già cosparso di quella cosa morta lì come me lui io residuo inorganico lo ero già in pancia con i capelli color della cenere ci sono nato mia nonna li aveva però definiti biondo cenere una sera dal crepuscolo infinito che eravamo proprio accanto al caminetto di tizioni spenti nella piccola cucina della baracca dove stavamo noi tre tra il cannetto e il mare o una stufa in ghisa e un muretto di pietroni per custodirci il fuoco e una tavola con la tovaglia fatta con pezze di paracadute niente di più se si escludono le brande e può darsi che da bambino ci fosse una qualche sfumatura dorata nella mia capillatura ma io le ho sempre visti come grigi seppure di un grigio in erba vivido un grigio da giovane dio senza età non da vecchio fauno incanutito mi viene da ridere un fauno io io che sono l'immacolatezza fattasi persona io che sono la sessualità fattasi branca della teologia senza dar di matto e che non conosco né versione né perversione un grigio gioioso se posso usare il grigio di una vittoria definitiva espugnata dal proprio sangue prima ancora che dal sangue altrui che pure ho saputo fare versare copiosamente di borsa in borsa e di legislatura in legislatura ai nostri milioni di fedeli pecorrelle smarrite e fessi beati senza riportarne io macchia visibile il grigio perlaceo di una guerra combattuta in segreto tra le proprie vene che si affrontano l'un l'altra all'arma bianca della rinuncia senza ritorno senza ripensamenti senza tentennamenti senza pianistei la parola cuore non ha spazio in chi ne ha se no l'avrei usata un cuore in cenere non significa un cuore di cenere e comunque la metafora del cuore è da converse sospirose e da mitiche a tempo mistiche a tempo perso io sono un grigio uomo di potere io i cuori l'ingrosso e poi li estirpo li illudo e poi li eludo per mandato divino io ti do la casa ma poi devo anche togliertela variando i tassi di interesse altrimenti potresti montarti la testa con quel tetto sopra tutto tuo e cambiare l'ordine naturale delle cose di chi sta sopra e di chi sta sotto e dov'è la tua vera casa che è il tempio di dio io devo stare sopra voi non so ma dove sto io voi non potete starci potete arrancare sia con la delinquenza che con l'onestà ma io devo respingervi giù magari ancora più in basso da dove siete partiti ho la politica la scuola le leggi la stampa la magistratura le banche le imprese l'edilizia i sindacati dalla mia e ho le conoscenze straniere ne avessi mai bisogno uno stato si trova con un arsenale in disuso che di certo non può distruggere perdendoci investimenti e faccia solo perché è obsoleto io invento la strategia dell'odio tra le due tribù o due popoli o due etni o due famiglie in pace fino a quel momento e il gioco è fatto non mi si prenda la lettera ma anche mi si prenda pure io opero in questi ambiti irraggiungibili da mente umana e sensata e insensata e troppo subliminali per non essere terra terra io faccio quadrare i conti che altrimenti non tornerebbero e che non tornerebbero indietro oltretutto più non c'è burattinaio che non sia marionetta a sua volta e io sarò anche una marionetta come tutti gli altri ma i miei fili li tiene dio i vostri li tengo io voi siete un certo numero di casualiti di vittime sacrificali di ceneri inaspettativa messe in conto sin dal primo vagito o sarebbe troppo lunga da spiegare io non do giustificazioni se anche lo volessi non saprei come giustificarmi non esiste una retorica simile accreditata e credibile non è tema punto la mia chiesa deve trionfare mica sopravvivere o vivacchiare come è un risibile dettaglio io sono il pulviscolo la polvere sottile che arriva dappertutto e si impossessa di ogni cosa e di ogni coscienza e di ogni risparmio accumulato al fine più ignobile la libertà da dio e dai suoi sicari vicari volevo dire ho il fascino delle enormi ricchezze e degli stenti indicibili io sono la croce e chi inchioda e chi la fa e se la fa pagare salata ogni ora d'uso in più per non lasciare pericolosi vuoti di potere sono anche l'inchiodato beh un sosia di buona volontà e miglior masochismo e ve la farò pagare fino al vostro ultimo rantolo e al mio estremo sorriso di benevolenza misericordiosa comincio ad aprire il volume a caso preti si col tricorno e pretini con la papalina allora si portava la veste già al ginnasio me li ricordo tutti uno per uno ma guai a me se mi lascio andare all'anacronismo imperdonabile di rivelarlo a di rivelare che qui dentro ci sono anch'io sarebbe una bella sorpresa e che titoloni sulle prime pagine domani se li volessi si intende a proposito nessun fotografo qui non mi si immortala neanche un po nemmeno quel tanto da farsi pubblicità e far cassetta faccio come sono abituato a fare faccio finta di niente so che la mia muliebre ombra pencolante sul volume dietro di me sta ormai cercando il mio sguardo ma questa soddisfazione non te la darò o troia irrisolta o frustrata santarellina che fingi l'isteria della casta per dovere e poi ti fai tutte le guardie del corpo da castelgandolfo alla santa casa chiusa di loreto e io pago lo so che lo sai e che hai riconosciuto luoghi ambienti e persone non c'è bisogno di sottolinearmi la tua complicità sono 40 anni che cerco di farti capire che la recita della nostra intimità riguarda gli altri e che non abbiamo alcuna intimità tra di noi da autenticare fosse pure solo con uno sguardo d'intesa lo so anch'io che come me anche tu stai aspettando che il catalogo si apra su una certa pagina una certa foto se solo te ne andassi a guardarle alle pareti invece di farmi sentire la tua litosi di anoressica indiavolata ma è scopata dalla tua preda più ambita a me edificanti dico al gallerista senza sollevare la testa dal catalogo e quanto costano non sono in vendita appartengono alla fondazione ma per lei eccellenza e lei la mia croce di compagnia che scorreggia di bocca che ti venga un padre pio più erroico alle ganasce e si mette a solfeggiare canterina ma che adorabili mattacchioni questi chierici qua e che belle vesti di una volta o è tutto così appiattito sembrano tutti dei pier alle sfidate di moda anch'io avevo un parente in seminario lì sa le do una impercettibile gomitata nel gomito o dice il gallerista in quello o in un altro erano tempi di fame era difficile per chiunque non avere un parente in seminario e cerca inutilmente il mio sguardo per condividere l'ironia intesa per farmi piacere grazie